risponde 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 pronto aspetta Antonello buongiorno buongiorno ma no ma tu ma scusa Antonello tu mi hai detto che la mattina dormi lo so però la mattina poi uno si sveglia mi hanno svegliato mi hanno svegliato tutti mi hanno chiamato tutti poi ho acceso la televisione e sapevo che c'eravate voi vi seguo non è un fatto precostituito che non mi vedrei mai lì in mezza bella 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 e proprio mi rompe le scatole svegliarmi alle 4 ne a caccia ne a pesca quindi non guarda a quest'ora già però sono la mia non so settima sigaretta si ma lui è così Antonello è così ha una voce incredibile dovreste vedere il concetto che fa insieme a Francesco è una cosa veramente pazzesca senti allora a sto punto gli auguri te li facciamo qui live e banalmente ti cantiamo tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a Tonello tanti auguri a te meriti grazie Antonello e non lo farete anche cantare no no veramente alla giornata a tutte le donne sì che io ho cantato e canto qui e che se lo meritano molto più di me per le loro sofferenze al cammino di libertà e di uguaglianza quindi gli auguri a tutte le donne del mondo Evviva! Evviva Antonello Venditti! Grazie Antonello!